allora la scorsa lezione ci siamo fermati poco dopo questo punto e parlando di template template che avete già anche utilizzato per nello scorso laboratorio riprendiamolo solo brevemente visto che in laboratorio qualcuno almeno di quelli che ovviamente c'erano non posso parlare per gli altri aveva qualche piccolo dubbio che poi è stato risolto durante le ore di laboratorio ma in generale se magari qualcuno non ha ancora fatto quel laboratorio può essere utile ridare un attimo un'occhiata a questa parte visto che è stata fatta lunedì scorso verso le 7 allora dove eravamo partiti eravamo partiti dal fatto che avevamo un esempio che era questo queste due pagine in cui avevamo l'immagine del testo eccetera ma diverse informazioni erano duplicate per esempio tutta la parte iniziale dei file è comune tra due diverse pagine se non per qualche piccolo cambiamento tipo qui c'è scritto home e qui c'è scritto sul sito ma in realtà anche volendo nel body l'h1 è in parte comune entrambi hanno un h1 e volendo si potrebbe avere anche il copyright quindi ci possono essere delle parti comuni all'interno delle pagine anche in questo esempio che è relativamente semplice e allora abbiamo detto per evitare di avere parti in comune quello che si può fare in flask è impostare dei template che si possono ereditare uno dall'altro quindi avere un template base un template padre un template zero che gli altri pagine possano ereditare le informazioni comuni da quel template e in applicazioni complesse queste parti comune tipicamente sono la barra di navigazione il footer il layout intero della pagina che il layout intero del sito che non cambia tipicamente tra una pagina o l'altra o quantomeno non cambia significativamente e questa ereditarietà di template si può fare dicevamo modificando unicamente i file di template senza toccare quindi i file python che continua a funzionare come in precedenza quindi come senza l'utilizzo di questi template e i due tag principali per abilitare i template e la ereditarietà tra un template e l'altro sono la definizione di un blocco che è il primo che è in questa slide che definisce un blocco di contenuto riutilizzabile e il secondo è per estendere un template quindi abbiamo un template padre un template base e le altre pagine andranno a estendere il contenuto di quel template andando a rimpiazzare spesso e volentieri i blocchi che sono definiti nel template base e qui abbiamo visto quindi i blocchi si definiscono con graffa per cento bloc il nome del blocco e poi ci deve sempre essere and block così come ci deve sempre essere and if and for eccetera quindi ogni tag ginger deve avere il suo corrispondente and per chiudersi correttamente e questo nome del blocco deve essere unico all'interno di un template proprio perché il nome viene poi utilizzato per andare a inserire all'interno di quel blocco altre informazioni quindi se il nome non fosse univoco non fosse unico poi non sapremmo dove andare Flask non saprebbe in quale degli n blocchi che si chiamano allo stesso identico modo andare a inserire il contenuto e l'extend file name.html è appunto il modo per cui noi in un template figlio possiamo estendere un template padre quindi dal nostro template index o dal nostro template about possiamo andare a prendere le informazioni che sono comuni a entrambi e che saranno in un altro template che per esempio possiamo chiamare base o come preferiamo e giusto per ricordare i template devono tutti essere con estensione html e di nuovo tutti devono stare dentro la cartella templates con la s plurale e allora per esempio noi abbiamo detto ci può essere questo template base per il nostro esempio semplice che descrive la struttura di un file html e definisce due blocchi vuoti uno è il titolo nell'head e uno è il contenuto intero del body e poi le nostre due pagine index ed about andranno a definire che cosa c'è dentro quei due blocchi facendo come prima cosa ed questa è la prima cosa che un template deve fare se vuole farlo chiamare extend il template padre questa istruzione se c'è deve essere la prima cosa chiamata in un template figlio quindi questi template cosa fanno estendono il template base quindi prendono tutto quello che c'è nel template base che nel nostro caso è la struttura del file html e vanno a riempire i due blocchi o alcuni dei blocchi nel nostro caso tutti tutti e due i blocchi definiti nel template base con altre informazioni quindi è come se questo home venisse messo in questo punto nel head del title ed è come se quando visualizziamo index tutto quello che c'è dentro il blocco contenuto quindi h1, i due paragrafi, l'hr eccetera venissero messi all'interno del body e il tutto questo vi ricordo senza cambiare il file python il file python continuerà quindi a chiamare per la route della index questo file templates slash index e per esempio la pagina che siamo continuerà a chiamare about.html e saranno poi loro a estendere base.html ok? questo è chiaro? forse domande fin qui? sì rimane vuoto nel caso uno dei blocchi del template quindi se in questo caso il figlio non riempisse il title questo qui verrebbe mangiato meno e basta meno spazio anzi e basta questo ci permette anche di usare un blocco avere alcuni blocchi che scegliamo di usare in alcune pagine e non in altre per esempio e questi blocchi c'era qualcuno che aveva l'aveva usati anche per contenere per esempio del file css o delle classi css quindi in base al fatto che voi riempiate o meno il blocco aggiungete o togliete per esempio delle classi css a un determinato tag può essere un caso d'uso di questo blocco se lo riempio aggiungo un tag specifico se non lo riempio niente in questo caso è più semplice c'è solo testo o codice html ok e se noi incolliamo tutto questo in un progetto fatemelo aprire questo è esattamente vedete là in fondo sì questo è esattamente quello che c'è nelle slide quindi questo è il tag base e è già online su tra il materiale di questa lezione questo è l'about che vedete diventa anche più corto ovviamente è anche in alcuni casi più difficile andare a capire se ci manca un tag se c'è qualcosa che non va bisogna prestare più attenzione perché stiamo distribuendo il codice tra più file e quindi dobbiamo essere sicuri che base html abbia tutto quello che serve prima di andare a aggiungere informazioni però è esattamente il codice che abbiamo scritto l'altra volta che c'era nelle slide solo diviso su tre file invece che su due e vedete che appunto app.py non è cambiato per niente è esattamente quello che avevamo scritto l'altra volta quindi chiamiamo index nel primo caso chiamiamo about nel secondo caso e quando chiamiamo index gli passiamo anche questo array di dizionari che contiene in questo caso i primi piatti allora se noi eseguiamo questo potete vedere che questo ovviamente era molto semplice ma il se ricordate quello dell'altra volta che abbiamo visualizzato è ovviamente esattamente la stessa visualizzazione quindi nella home ci sono queste informazioni se clicchiamo sul link andiamo alla pagina about che ha esattamente le stesse informazioni e il titolo è sempre sul sito nel primo caso e se torniamo alla home home quindi è esattamente di nuovo lo stesso lo stesso sito e se vedete sorgente della pagina vedete che flask costruisce il file html come in un certo senso ve lo aspettate quindi non ci sono residui in un certo senso di quello che ha fatto flask ma compone come vi dicevo l'altra volta mette insieme questi template utilizza python per crearli una volta che li ha creati passa al browser direttamente file html file css e quant'altro pronto da essere visualizzato quindi in questo caso vedete di nuovo esattamente il risultato che vi aspettate con il titolo la descrizione il menu eccetera 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 compreso il link alla route about che poi chiamerà il template about .html e di nuovo nel nostro caso abbiamo scelto lo stesso nome ma i nomi potevano essere anche diversi quindi questo una volta che arriva al browser è una pagina html css esattamente come quelle che abbiamo realizzato fino a qualche settimana fa ok una cosa che invece non abbiamo detto l'altra volta ed è la parte da cui ripartiamo ma è ancora collegata ai template è che è anche possibile se servisse renderizzare il contenuto del blocco padre quindi del blocco contenuto per esempio in un template padre chiamando super quindi super aperta e chiusa a parentesi questo qui noi abbiamo finora definito blocchi vuoti nel template base avevo due blocchi uno per il titolo e l'altro per il contenuto e poi i figli andavano a dire dentro il blocco title metti questa informazione dentro il blocco content metti quest'altra informazione ma i blocchi originali erano vuoti noi però quando vi ho introdotto i blocchi io ho detto che i blocchi definiscono un blocco un componente html riusabile non abbiamo mai detto che debbano necessariamente essere vuoti in un punto e riempiti da un'altra parte quello è tipico è una cosa che si fa però si può anche avere un blocco pieno che vada poi a essere riempito quindi sovrascritto dal blocco del del template figlio per esempio oppure esteso dal blocco del template figlio allora se noi abbiamo un blocco pieno o vuoto non importa e andiamo a nel template figlio come abbiamo fatto finora quindi immaginate che questo blocco sia pieno se questo blocco fosse stato pieno e noi nel template figlio semplicemente andavamo a metterci un altro contenuto al suo interno il contenuto del template figlio avrebbe rimpiazzato qualunque cosa avessimo scritto qui in questo caso è vuoto quindi rimpiazziamo il vuoto e abbiamo il risultato ma cosa succede se noi non vogliamo rimpiazzare tutto ma vogliamo dire quello che c'è nel blocco del template padre lo vogliamo per tutti i template figlio ma in alcuni casi e solo in alcuni casi vorremmo aggiungere qualcosa quindi non rimpiazzare tutto non riscrivere tutto da zero ma aggiungere un pezzettino allora questo aggiungere un pezzettino è possibile tramite questa funzione che è super quindi se per esempio nel template padre abbiamo definito che nella add c'è un intero blocco che si chiama add e che ha un foglio di stile style.css che quindi si applica tutto il sito è un foglio di stile per tutto il sito e ha un title esattamente come abbiamo fatto prima quindi mangiato meno qualcosa da mettere se noi volessimo riempire title lo sappiamo fare l'abbiamo fatto finora quindi block title per esempio su sito end block ma se noi volessimo aggiungere per esempio un file css a solo una pagina quindi vogliamo che l'intero stile css del sito continui a rimanere tutte le pagine avranno un header nero e il font sarà roboto dimensione 12 pixel o 12 punti ma una pagina specifica la pagina about in aggiunta a tutto quello abbia un suo css speciale particolare dedicato che aggiunga alcune cose al file css e che servono solo a quella pagina e quindi non ad altre per quello che sappiamo fare finora non possiamo farlo dovremmo qui nel figlio dire link rel stylesheet href style.css title mangiato meno sul sito e poi aggiungere l'altro css che è questo about.css quindi di nuovo i blocchi e le realitarietà ci risolvevano il problema della duplicazione del codice ma se vogliamo estendere un blocco con qualcosa andiamo di nuovo a riduplicare il codice per evitarlo Flask ci dà questa funzione che si chiama super che è la stessa che richiama la stessa logica del super della programmazione oggetti che va a dire all'interno di un blocco io posso chiamare super e super è una funzione quindi va è una funzione python quindi va utilizzata con le doppie graffe all'interno delle doppie graffe e dopo questo super andiamo a definire tutto quello extra che vogliamo inserire in quel blocco quindi l'azione di questo super è come se noi avessimo preso questo e l'avessimo incollato qui dentro quindi nel file about nel blocco add ci ritroviamo esattamente tutto quello che troviamo da prima quindi questo blog title continua a funzionare e in più aggiungiamo un nuovo foglio di stile questo è un caso abbastanza comune per l'utilizzo di super ma si può utilizzare anche in altri casi si può utilizzare anche se voi avete un certo contenuto html fisso e magari in alcune pagine volete disattivare qualcosa volete aggiungere qualcosa volete attivare qualche funzionalità questo ci permette volendo di farlo ci da un modo in più di farlo se vogliamo estendere un blocco l'altro modo è creare un altro blocchettino che va ad aggiungere quello che ci serve quindi per esempio qual è un altro modo di fare questa stessa operazione senza usare super quindi noi non vogliamo usare super ma vogliamo ottenere lo stesso risultato come potremmo fare? sotto sotto il blocchetto poi nella sotto quindi qui anche dentro in realtà non ci cambia niente aggiungiamo un altro blocco qui ok non fatemelo scrivere col mouse ma aggiungiamo un altro blocco che chiamiamo x perché è facile da scrivere e scriviamo block x quello che vogliamo inserire quindi andiamo ad aggiungere chirurgicamente quindi in realtà questo blockhead se facessimo così non ci serverebbe neanche ci basterebbe block e il suo end allora in questo caso potremmo anche fare così andare fino a un altro blocco che si chiama in un altro modo più css e andare lì ad aggiungere il più css però se qui non vogliamo aggiungere css ma vogliamo aggiungere altre informazioni meta allora quel blocco dovrebbe chiamarsi più add quindi dovremmo trovare qualche nome in base a quello che vogliamo fare questo è però un altro modo quindi un modo è abbiamo già un blocco lo definiamo e usiamo super per prendere le informazioni che ci servono ed estenderlo l'altro modo è dire ok facciamo finta che super non esiste andiamo a definire un nuovo blocchettino più piccolo che vada a contenere le informazioni che voglio io e se devo aggiungerne tanta informazione diversa e magari non in tutte le pagine la stessa dovrò avere tanti blocchi quindi qui aggiungo solo il css quindi posso avere un blocco solo ma se io qui volesse aggiungere in about una certa cosa in index un'altra cosa ancora e in una terza pagina magari niente io avrei magari un blocco x per il css un blocco y per il css e quell'altra cosa che vado ad aggiungere e nel terzo nel terzo template dovrei lasciare vuoto quel blocco quindi avere un blocco definito che però in alcuni casi non viene utilizzato come dicevamo prima col super questo in un certo senso lo evitiamo questo blocco vuoto che non viene definito evitiamo di doverci ricordare che abbiamo definito un blocco poi alla fine il risultato finale sarà comunque una pagina html con le informazioni che ci servono con le informazioni che abbiamo aggiunto sono modi alternativi di fare una cosa molto simile ok e questo chiude il templating quindi per ora almeno e ricordate che all'interno del templating perché ci servirà dopo possiamo usare sia un ciclo for l'abbiamo anche usato nel laboratorio ma se servisse esistono anche cicli esiste anche non i cicli ovviamente esistono anche le l'espressione di controllo come gli if quindi se condizione altrimenti se un'altra condizione altrimenti altrimenti eccetera dove ricordate che questo è l'if è ovviamente facoltativo potreste anche non averlo anche l'else è facoltativo potrebbe essere ci sono l'if e nient'altro e poi ovviamente ci deve essere l'endif ok e questo ci dà il il templating ora torniamo un attimo nel nostro esempio ma giusto per per vederlo immaginate che che ognuno di questi primi piatti debba avere in realtà una pagina sua quindi che la nostra pasta al tonno abbia anche non solo un'idea e un nome ma abbia anche un link e stessa cosa per la pasta al sugo e immaginate averne 100 non 2 allora per quello che sappiamo adesso come potremmo fare a creare queste 100 pagine ma per quello che sappiamo fare adesso sarebbe bello fare una pagina sola sono d'accordo per quello che sappiamo adesso dovremmo fare uproot aperta parentesi pasta al tonno qualunque sia il link definisci def pasta al tonno render template qualunque sia il template che debba contenere le informazioni di quel primo piatto e poi uproot pasta al sugo definisci pasta al sugo render template probabilmente lo stesso di prima con altre informazioni dentro quindi noi al momento dovessimo farlo dovremmo appunto fare così uproot diciamo 1 giusto per definisci 1 return render template singolo piatto singolo e se ne avessimo di più dovremmo fare esattamente la stessa cosa 2 e magari qui passiamo poi adesso non ce l'abbiamo una variabile piatto ma faremo qualcosa del genere adesso questo ovviamente non funziona no quindi definiremo delle root diverse e poi passeremo ovviamente in base a se sono su 1 passeremo il piatto 1 e se sono su 2 passeremo il piatto 2 questo ovviamente se fatto per 100 1000 pagine non è fattibile fatto a mano giusto giusto sì ok quindi come giustamente diceva lui sarebbe bene poterlo fare con una sola route sarebbe bene poter scrivere primi primo primi qualcosa e qui riciclare e qui riciclare la stessa root lo stesso metodo primo piatto per esempio con la stessa template che di nuovo adesso non abbiamo quindi non funzionerà per e in base al piatto in cui siamo quindi se siamo nel piatto pasta col tonno visualizziamo gli ingredienti e il prezzo e se siamo nella pasta a sugo stessa cosa con gli ingredienti dell'altro piatto ok quindi questo è quello che ci piacerebbe fare adesso non sappiamo ancora farlo e vediamo come farlo con con il concetto diciamo delle route dinamiche che Flask ci permette di utilizzare allora che cos'è una route dinamica? è una route esattamente definita come le route finora quindi come la route dell'index e quella delle about che quindi funziona nello stesso modo ma che può includere un parametro passato come argomento della funzione quindi in questo esempio il parametro è username che è anche il parametro della funzione e questi devono essere identici non potete chiamare il primo in un modo il secondo in un altro e a quel punto all'interno della funzione avete un parametro in una funzione all'interno della funzione potete usarlo quando e se ne avete bisogno quindi in questo esempio se questo username se andate nel browser se avessimo questo implementato andate nel browser scrivete 127 001 2.5000 slash users slash luigi verrebbe chiamata la funzione show profile con username con username luigi a suo interno e quindi se facesse questo questo return stamperebbe user spazio luigi quindi in base a quello che passate nella barra degli indirizzi del browser o che viene passato in un link la pagina prende questo parametro lo passa lo usa nella funzione lo passa alla funzione e poi a sua volta lo utilizza all'interno della funzione per fare quello che ha bisogno ok quindi questo ci può permettere di dire vogliamo la pasta al tonno o la pasta a sugo la discriminante la fa il parametro quindi avremo una route nel nostro esempio qui una route primi e qui scriveremo nome e qui scriveremo nome e qui per esempio scriveremo nome quindi definiamo un parametro che possiamo poi utilizzare per fare quello che vogliamo o anche possiamo anche ovviamente scrivere if nome è uguale qualcosa eccetera è una variabile a quel punto è un parametro all'interno della funzione quindi una variabile possiamo fare quello che ci serve con quella variabile i parametri sono tutti stringhe quindi se noi scriviamo se noi scrivessimo users slash uno questo uno all'interno di questa funzione verrebbe comunque visto come una stringa quindi non potremmo fare un'operazione matematica perché è una stringa ok questo si può ovviare nel caso ci servisse un parametro che non è di tipo stringa convertendolo in un altro tipo diciamo così che di cui abbiamo bisogno non cambia niente nella definizione del route della funzione quindi abbiamo sempre un parametro abbiamo sempre questo parametro passato come argomento della funzione e a quel punto lo possiamo sempre usare nel corpo della funzione quello che cambia è che possiamo avere una conversione automatica mettendo prima del nome del del parametro della route il che cosa il a che cosa a quale tipo vogliamo convertire quindi di default sarà una stringa e noi stiamo dicendo che in questo caso non va interpretato come stringa ma va interpretato come come intero quindi in questo caso se noi scrivessimo come qui come prima invece di users in questo caso è posts 1 questo 1 verrebbe verrebbe davvero interpretato come numero e non come stringa quindi potremmo per esempio fare delle operazioni matematiche con quel numero e i parametri possono essere questi dove l'ultimo è il caso di default non c'è parametro quindi è stringa la stringa si può convertire in intero scrivendo int due punti in numero in virgola con la virgola scrivendo float oppure se ci servisse in una stringa particolare che può includere gli slash quindi viene sempre interpretato come stringa ma a differenza della stringa di default se ha degli slash questi vengono considerati parte del parametro e non come un'altra route quindi compat per esempio compat quindi se usassimo compat per esempio noi potremmo scrivere post a slash b e questo a slash b sarebbe il parametro compat ragazzi è abbastanza fastidioso questo rumore questo chiacchierare per favore quindi compat questo sarebbe un pat intero con stringa cosa succederebbe se questo non fosse pat e si ricevesse questo parametro cosa succederebbe cosa ci direbbe flasca in questo caso qui quindi cosa ci direbbe flasca se noi invece di avere se invece di avere users avessimo questo in questo caso quindi a slash b in questo caso cosa ci cosa ci direbbe flasca si aspetterebbe un parametro in più e quindi cioè riceverebbe un parametro in più e quindi se questa fosse l'unica route che abbiamo ci direbbe che non esiste una route che ha che inizia con users e che ha due parametri e quindi non funzionerebbe se noi mettessimo invece pat questo farebbe il match con la route e quindi eseguirebbe la funzione associata a quel decorator stessa cosa ovviamente capita se noi avessimo questo e scrivessimo post post slash a cosa succederebbe può può a essere convertito direttamente in intero no non è un numero quindi ci darebbe un errore perché questa se questa fosse l'unica route che inizia con post slash parametro ovviamente non ci sarebbe una route che accetta come parametro una stringa e l'unica che c'è accetta un numero è intero e a non è un numero intero e quindi non può funzionare quindi queste sono le route dinamiche dove questo int due punti float due punti path due punti vi permette di definire una conversione automatica di nuovo qual è un modo per fare una cosa simile senza usare la conversione automatica un po' più complicata perché la conversione automatica ce lo dà gratis ma quale potrebbe essere un modo alternativo di farlo di usare un numero ma senza una conversione automatica fare la conversione nella funzione quindi dire se il parametro è un numero allora lo converto in numero altrimenti e faccio post per cento di altrimenti è una stringa e allora faccio post per cento s capita raramente di doverlo fare in un'unica funzione perché se sono due parametri diversi probabilmente avranno anche due risultati diversi non così semplici come stampare post cinque o post a però quella è un'altra alternativa dentro la funzione dentro il codice python fare il controllo di che tipo è il parametro e in base al controllo al risultato del controllo fare la conversione in modo che poi possa essere utilizzato o come stringa o come numero o come quello che ci interessa utilizzarlo ecco queste sono le route con parametri come generiamo dei link con parametri perché noi li abbiamo sempre scritti vi ho sempre detto vi ho detto apriamo il browser scriviamo 127 001 2.5000 slash post slash 1 slash a però questo richiede scrivere la mano se ne avessimo dei link come facciamo al generare delle route dinamiche quei link possiamo usare url4 lo stesso url4 che già avevamo usato l'altra volta finora quindi url4 se e fatemi cerchiare questo se la route è dinamica accetta un secondo parametro che viene passato che quindi genererà un user slash Luigi di R se il parametro è Luigi di R e a questo punto questo users slash Luigi di R farà esattamente match con questa route perché c'è users e c'è una stringa esattamente come ci aspettiamo quindi url4 se la funzione se il nome della pagina abbiamo detto che lo chiamavamo quindi se la funzione se il nome della pagina è a un decorator a un decoratore che è dinamico che ha una rate dinamica si comporta così passando un secondo parametro slash users che è la parte della route dinamica della parte statica della route slash quello che passate nel nella variabile cosa succede secondo voi se la route non è dinamica quindi quindi se questo fosse solo slash users senza username ma io uso url4 in questo modo opzione 1 da errore perché la route non è dinamica opzione 2 fa qualcos'altro genera un'rl diversa da questa secondo voi ma questa funzione non ha nessun valore no? perché se noi non abbiamo una route dinamica questa è show profile aperta e chiusa parentesi quindi che lasciate perdere la funzione la funzione è statica ma che url genera questo url4 show profile virgola username uguale luigi dr genera slash users slash luigi dr questo stesso url4 usato per un show profile che è statico quindi che non ha questo e che non ha questo e che non può avere questo di conseguenza ma avrà a come stringa quindi stamperà sempre user a che url genera genera sempre users luigi dr oppure genera qualcosa di diverso contando che questo show profile esiste quindi url4 può generare una route per quella pagina è capace a generare una route per quella pagina la domanda è cosa se ne fa del parametro che gli passiamo lo ignora ci dice la route non ha un parametro quindi non possiamo farci niente fa qualcos'altro chi dice che lo ignora uno chi dice che dà errore quattro chi dice che fa qualcos'altro quattro cinque e poi c'è sempre un grosso blocco di ignavi fa qualcos'altro e questo qualcos'altro è questo quindi se la route è statica per questo vi ho detto attenzione fatemi cerchiare se la route è dinamica perché se la route è dinamica fatemi cancellare tutte queste schifezze se la route è dinamica quello che succede è che url4 dato che viene costruito a partire da una pagina da una funzione sa che quella funzione ha un parametro perché è associata a un decoratore dinamico quindi lo sa e quindi genera users slash luigdr ma perché viene passato un parametro che è username uguale luigdr se invece la route è statica o non contiene un parametro con nome tipo questo tipo about l'url4 about senza parametro aggiuntivo sappiamo che restituirà slash about url4 virgola username uguale qualcosa genererà un about punto di domanda il nome della variabile username uguale il valore che abbiamo dato a quella variabile quindi esattamente quello che abbiamo scritto qui finirà nella url senza le virgolette e col punto di domanda che separa dalla url quindi questo è un parametro di una richiesta get è un normalissimo parametro di una richiesta get quindi url punto di domanda parametri e poi c'è anche un modo per prendere questi parametri da dentro la funzione ovviamente che non sono disponibili da qui perché non c'è nessuna variabile quindi andranno presi dalla richiesta vi ricordate l'altra volta vi ho detto c'è questo oggetto request che contiene alcune informazioni per esempio il metodo http con cui quella pagina è stata chiamata ecco questo request dato che questo è un parametro della get questa request conterrà anche i parametri eventuali che ci sono in questo caso tutto quello che c'è dopo il punto di domanda quindi in questo caso la get da request avrà un parametro che si chiama username il cui valore è LuigiDR e potremmo usarlo se vogliamo all'interno della funzione ma dobbiamo recuperarlo dalla richiesta ed è scritto in quest'altro modo più più lungo rispetto a questa versione qui in cui diventa una parte della route una parte della url ok? quindi questo ci permette di generare url dinamiche come quelle per esempio che volevamo noi tipo queste primi nome oppure primi int id e a quel punto possiamo per esempio potremmo dire first se fosse un array id sì first uguale come si chiamava first plate di id o qualcosa del genere perché un numero potremmo utilizzarlo per esempio come indice di un id se volessimo ok? adesso questo ovviamente da errore non funziona ma è giusto per nell'esercizio che faremo dopo lo faremo funzionare su un esempio un po' più complesso di questo ma è per dare un'idea questo in base a che cos'è questo possiamo utilizzarlo per in molteplici modi per passarlo per usarlo come id di un array eccetera infine e questo chiude la parte con questo chiudiamo la parte diciamo così core di flask perché abbiamo visto come si crea un'applicazione flask come si fa debug come si fanno del route come si utilizzano i template i blocchi i condizionali quindi if qualcosa all'interno del template gingia i cicli eccetera guardiamo prima di fare la pausa quindi nei prossimi 10-15 minuti le estensioni di flask io l'altra volta vi ho detto che flask è semplice piccolo come framework ma è estendibile per cui fa poche cose per cui in tre ore in quattro ore e mezza abbiamo parlato di le cose principali di flask quindi tutto sommato fa poche cose e ha alcune convenzioni che sceglie per esempio questa è una convenzione url4 in una route dinamica si comporta in un modo e in una route non dinamica si comporta in un modo totalmente diverso questa è una convenzione che ci piace o non ci piace ma dobbiamo conoscerla e utilizzarla ma è anche estendibile quindi possiamo aggiungere cose che flask di suo non fa come estensioni e queste estensioni servono per fare alcune operazioni e noi ne useremo alcune oggi ve ne presento una ma andando avanti nel corso ne useremo un'altra per l'autenticazione per esempio per fare alcune operazioni che tipicamente o sono standard oppure sono più facili fatte in flask che fatte direttamente in altri linguaggi in altri modi oppure azioni ripetitive comuni per cui una volta che abbiamo imparato a farlo una volta un'estensione magari ci semplifica e invece di farci scrivere 30 righe di codice ce ne fa scrivere 2 per ottenere lo stesso risultato ovviamente ci nasconde alcuni dettagli non dobbiamo fidarci di quello che fa questa estensione così come le estensioni possono aiutarci a ridurre o eliminare spesso ridurre dei rischi della sicurezza associati a alcune operazioni l'input da parte degli utenti in una pagina html l'interazione col database l'autenticazione la registrazione quindi il login la registrazione di un nuovo utente eccetera operazioni tutto sommato standard ma che per farle richiedono magari alcuni dettagli il login è secondo me l'esempio più classico pensate alla vostra esperienza quante è diverso l'operazione di un login da un sito a un altro in genere per quello che vedete per quello che fate poco o niente quindi per fare il login in maniera corretta però ci sono tanti dettagli tipo la password dove la salvo la passo al server come la passo la memorizzo nel client e se una volta sul server dove la metto la lascio in chiaro nel database o dovunque la devo memorizzare così tutti possono leggerla magari no quindi ci sono una serie di scelte di operazioni specifiche che si possono fare costruendo tutto a mano però sono da portare molta attenzione e possono provocare problemi e allora ci sono delle estensioni di nuovo ne useremo una che si chiama Flask Login che ci semplifica tutta una ci da gratis tutta una serie di buone pratiche che noi possiamo che noi così utilizzeremo e ovviamente dobbiamo fidarci di quello che fa l'estensione e a questa pagina va più avanti quella a questa pagina ci sono tutta una serie di estensioni disponibili per Flask che che si possono utilizzare e qui ce ne sono alcune e come vi dicevo questo Flask Login è un qualcosa che useremo in futuro quando parleremo dell'autenticazione che serve appunto a gestire non solo l'autenticazione non solo i login ma anche la gestione del fatto che quando la persona è loggata poi deve rimanerci finché non preme logout non è che al prossimo click mi richiede di fare login si deve ricordarsi sia il server che il client che io sono loggato e poi le estensioni possono una usare le altre per esempio questo Flask Login usa al suo interno Flask Session quindi noi installiamo Flask Login ma insieme otteniamo anche Flask Session gratis perché perché Session supporta le sessioni che Flask Login utilizza al suo interno e vedremo cos'è una sessione vedremo tutte queste cose altre estensioni utili una che citiamo che se volete potete utilizzare è Bootstrap Flask Bootstrap Flask non aggiunge funzionalità come il login non aggiunge buone pratiche ma include al suo interno Bootstrap quindi include all'interno del template Jinja dei componenti di Bootstrap quindi attualmente alcuni pochi a essere onesto però se vogliamo è un aiuto per unire il mondo di Flask e il mondo di Jinja col mondo del CSS puro che usa Bootstrap ed è un'estensione quindi da una parte prende Bootstrap e dall'altra lo restituisce come un template Jinja da poter utilizzare alcune piccole parti oppure questo Flask WTF che è un modo facilitato di creare dei form che saranno oggetto della settimana prossima quindi invece di creare dei form a mano in HTML si possono creare dei form di nuovo già agganciati con Jinja già con alcune funzionalità eccetera pronti all'uso in Flask quindi ci semplifica lo sviluppo di alcune cose e poi ci sono altri altre estensioni questo Flask Mail aggiunge la possibilità di mandare mail da un'applicazione Flask quindi si può fare anche a mano usando Python scrivendo codice questo è un facilitatore che con poche istruzioni diciamo con meno istruzioni di quanto fatto a mano vi permette di farlo lo stesso allora vedremo come vi dicevo Flask Login e Flask Session ma in particolare le altre si possono utilizzare ma diamo un'occhiata a Bootstrap Flask visto che Bootstrap lo conosciamo e ci può servire come esempio su come si installa e si usa un'estensione allora Bootstrap Flask ci fornisce Bootstrap 4 o Bootstrap 5 all'interno di Flask e all'interno di Jinja come dicevo prima ci fornisce solo alcune cose di Bootstrap non tantissime quindi molte delle cose comunque sono da fare a mano usando Bootstrap normale e come buona parte se non tutte le estensioni va installato è un pacchetto Python e quindi si installa con PIP esattamente come abbiamo installato Flask quindi PIP install Flask abbiamo installato Flask PIP install Bootstrap Flask installeremo questa estensione a quel punto potremmo utilizzarla all'interno della nostra applicazione a della documentazione va beh e una volta installato come si usa si usa come un qualunque una qualunque libreria Python quindi da dentro app.python la si importa in questo caso vi mostro come si importa la versione con Bootstrap 5 che è quella che stiamo usando ma c'è anche quella con Bootstrap 4 e poi la si inizializza quindi vedete in maniera molto simile a come si comporta Flask Flask in app.py lo importiamo e poi creiamo app uguale Flask name e Bootstrap lo importiamo e poi facciamo Bootstrap uguale Bootstrap di app per importare i file CSS i file JavaScript invece di andare a fare copia e incolla dal invece di fare copia e incolla di qui non c'è invece di fare copia e incolla di script http getbootstrap.com slash qualcosa possiamo scrivere doppia graffa bootstrap.load.css e bootstrap.load.javascript quindi in teoria quando viene aggiornato Bootstrap e l'estensione viene aggiornata noi riceviamo la versione più nuova sia del CSS che del file JavaScript che viene insieme a Bootstrap senza dover andare a modificare il codice HTML a mano quindi qualche piccola facilitazione e bisogna importarlo e poi bisogna creare un template base che io non ho inserito nella slide che vorrei riavere il mouse tipo questo quindi un template padre che al suo interno definisce un block head con alcune cose un block style dove si importa per esempio Bootstrap e poi in fondo un block script dove si importa il load CSS il load JavaScript quindi suggerisce di usare questo template e poi di andare a utilizzare a riempire le parti di questo template quindi all'interno di block content per esempio ci sarà il contenuto principale ci sarà tutto quello che deve essere nel body escluso gli script quindi ci dà alcune scorciatoie ci dà alcuni blocchi ci suggerisce alcuni blocchi da utilizzare e ci mette a disposizione alcuni blocchi predefiniti che di nuovo non sono tantissimi quindi alcune cose vanno comunque fatte scrivendo codice HTML e CSS a mano ma per esempio per la navbar bisogna definire la navbar come la definite adesso essenzialmente quindi scegliendo se background chiaro background scuro colore di primo piano eccetera però gli elementi della navbar invece di essere quella lista di UL o di LI con all'interno la classe navitem eccetera 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 si può definire direttamente con la funzione render navitem e passare il nome della funzione in app.py che definisce la route index per esempio e il nome che volete che appaia sulla pagina web quindi associando quindi simile a URL for genera una URL appropriata ma non solo genera anche l'aspetto estetico scrivendo home nel bottone della navbar e mettendo il link appropriato collegandolo con la funzione decorata da una route la funzione index che avrà la sua route specifica stessa cosa per explore e per about quindi ci dà alcune facilitazioni rispetto a scrivere il puro codice html questo è solo un esempio ovviamente non volevo non aveva senso fare copia e incolla della documentazione all'interno delle slide se volete utilizzarlo nella documentazione ci sono anche tutti le altre le altre macro quindi render navitem è uno di quelle ma per esempio c'è anche un render breadcrum item quindi gli elementi della breadcrum con il suo esempio e eccetera e il form per esempio e avanti così hidden errors non ci interessa granché il pager quindi la paginazione ci sono alcuni elementi non ci sono tutti gli elementi che bootstrap ha a disposizione e per quelli che non ci sono bisogna per esempio le card che molti di voi hanno usato nei laboratori non c'è non ci sono le card quindi quelle bisogna per esempio se uno lo vuole utilizzare scriverle in html normale al di fuori di questa estensione ecco un'altra cosa carina di questa estensione è di molte estensioni di flasche e che spesso funzionano bene con altre estensioni quindi l'estensione di bootstrap funziona bene con per esempio queste due estensioni una per gestire l'accesso al database e l'altro per gestire i form in quanto tali noi non useremo nessuna delle due in questo corso perché i form dobbiamo prima imparare a farli a mano prima di avere la facilitazione e stessa cosa SQL Alchemy visto che non tutti conoscono conoscono in generale o conoscono bene SQL eccetera SQL Alchemy nasconde un po' troppe cose e per le cose che servono a noi non ci dà un grosso vantaggio ma per applicazioni più complicate queste sono estensioni e una volta che uno sa cosa sta facendo soprattutto sono estensioni che facilitano e velocizzano lo sviluppo e semplificano anche la gestione di errori che funzionano bene insieme quindi queste tre per esempio funzionano bene utilizzate nella stessa applicazione senza creare conflitti senza creare errori senza creare problemi di nessun tipo quindi questo se volete utilizzarlo potete utilizzarlo credo che non sono sicuro se il testo del laboratorio vi suggerisca di utilizzarlo ma in ogni caso è un qualcosa che potete provare se volete utilizzare passare da bootstrap normale a bootstrap flask che vuol dire che alcune cose andranno fatte in gingia direttamente altre cose invece dovrete continuare a farle come prima in html ok domande finora bene allora nella prossima ora dopo la pausa proviamo a fare un esercizio ve l'ho già caricato un progetto di partenza ve l'ho già caricato online questo progetto di partenza è una versione aggiornata della pagina di mangiato che avevate iniziato a realizzare in bootstrap con Juan l'ho finita ho aggiunto del contenuto che non sia lorem ipsum giusto per avere qualcosa e l'ho messa all'interno di un template flask quindi all'interno della pagina index html c'è tutta questa pagina nella prossima ora partiamo da quello e aggiungiamo tutto quello che abbiamo visto in queste tre ore e che ci serve quindi i blocchi e le radote dinamiche per visualizzare i singoli piatti di pasta e cerchiamo di farlo insieme in questa ora e mezza così che se ci sono problemi li possiamo capire e superare anche se ovviamente una parte l'avete già fatta nel laboratorio di mercoledì quindi la prima parte iniziale può servire un po' come ripasso in caso di dubbio di problemi facciamo un quarto d'ora di pausa e riprendiamo alle cinque e mezza